Ciao, abbiamo disegnato molto a mano libera, però ci sono anche degli strumenti che ci aiutano quando dobbiamo fare dei disegni un po' più precisi o comunque con delle linee diritte, delle curve morbide. Molti sono qui, linea, linea spezzata, curva, vediamo un attimo come funzionano. Quindi invece della matita normale, se io clicco sullo strumento linea, continuano a valere le solite regole per quanto riguarda i materiali, quindi questo è il materiale e anche per quanto riguarda gli strumenti, per esempio qua c'è Pencil. Allora come funziona la linea? Clicco in un punto e trascino e come vedete appare una linea e due pallini gialli. I due pallini gialli mi permettono di modificarla ancora. Quando sono contento posso premere invio sulla tastiera oppure il tasto centrale e la linea viene confermata. Quindi se devo disegnare tante linee posso utilizzare questo metodo. Ora sto usando il tasto sulla penna impostato a tasto centrale. Se non voglio più disegnare la linea, anche se è lì temporaneamente, posso usare il tasto destro e annullarla. Una volta che è in questa modalità con i due pallini, se premo il tasto Tab, quello dell'Edit Mode, torno diciamo nella stessa situazione che avevo prima di appoggiare il secondo punto della linea. Notate che le linee sono grigie, sono grigie perché ho Pencil con Strength 06, quindi se io alzassi Strength ecco che all'improvviso la linea è intera. Quindi tenete conto che è una linea ma continuano a valere le regole dello strumento che avete. Quindi per esempio se questo è lo strumento Ink Pen Rough, come vedete il risultato è ogni volta diverso perché queste sono le indicazioni. Ovviamente sulle linee la pressione non viene visualizzata perché non possiamo premere dall'inizio alla fine e quindi ci vengono eventualmente in aiuto qui i profili di spessore che possono essere cliccati e quindi prendendo un materiale non come Ink Pen Rough, prendendo un tool per esempio come Pen che sarebbe regolare, guardate senza Thickness Profile la riga ovviamente è normale, se premo questo posso selezionare un certo profilo dall'inizio alla fine per lo spessore e quindi per esempio vedete qui comincia sottile e finisce sottile. Se io cambiassi lo spessore qui per esempio spostando la curva molto verso la fine in questo modo, vedete la linea è molto più sottile all'inizio, poi si ingrossa e poi torna ad essere sottile alla fine, con un raggio più ampio posso notare un po' di più questa differenza. Quindi questo Thickness Profile che può essere personalizzato come vogliamo permette di dare uno spessore che ovviamente non possiamo più dare tramite la pressione. Questo grafichetto è possibile farci diverse cose, per esempio cliccare su uno dei punti, trasformarli in punti ad angolo invece che punti a curva. Questo funziona come in tante altre finestre di Blender in cui c'è la stessa cosa. Potete selezionare uno dei punti e cancellarlo, in ogni caso da quassù è sempre possibile resettare la curva, ecco per esempio se in questo modo lo spessore è grosso all'inizio e fino nella parte finale, quindi ci sono delle opzioni qui. Quindi tenete conto che questo Thickness Profile vi permette appunto di avere a che fare con gli spessori. Adesso un attimo disattivo questo. Lo strumento Linea, mentre ho disegnato una linea, posso continuare premendola E di estrudi a fare altri pezzi di linea e ogni volta posso modificare l'ultima parte della linea. Vi consiglio in tutti questi strumenti di guardare i consigli che sono elencati qua sotto. Quindi vedete c'è scritto qui che E serve ad estrudere e per esempio c'è scritto Shift per allineare. Quindi se per esempio adesso estrudo un nuovo pezzettino, premendo Shift vedete si allinea a 45 gradi. Questo funziona sempre diciamo. Quindi avete la possibilità sempre leggendo qua sotto di sapere cos'altro si può fare. Questa è la linea spezzata e quindi vi permette di inserire più pezzi di linea spezzata senza premere la E ogni volta alla fine. Notate anche che tra i consigli sotto c'è scritto Will più o meno per cambiare il numero di suddivisioni. Andiamo a vedere in Edit Mode cosa è successo. Seleziono tutto in Edit Mode e seleziono i punti. Vedete che la linea è fatta da un certo numero di punti? Queste sono le suddivisioni e come avete visto in tutti questi segmenti che ho disegnato all'inizio sono sempre lo stesso il numero di suddivisioni. Quindi tornando per esempio allo strumento linea, se io traccio una linea qua sotto vedete che c'è scritto 6 in questa descrizione finale. 6 sono proprio le suddivisioni. Quindi se io confermo questa linea e poi ne traccio un'altra e con la rotella del mouse porto le suddivisioni a 10 per esempio e confermo questa linea e poi invece ne traccio un'altra uguale ma porto le suddivisioni a 2 e la confermo. Quando vado in Edit Mode possiamo notare che la prima è fatta appunto da 6 suddivisioni l'altra da 10 e questa da 2. Cioè tra il primo e l'ultimo punto ce n'è altri 2. Qui tra il primo e l'ultimo ce n'è 6 e nella seconda tra il primo e l'ultimo ce n'è 10. Quest'opzione è presente in tutti gli strumenti di disegno diciamo tecnico che ci sono qui. Poi c'è la curva che quindi funziona tracciando due punti e c'è un terzo punto in mezzo che posso utilizzare per manipolare la forma della curva e di nuovo anche qua con la E posso portarmi da un'altra parte e continuare la curva. C'è anche un'opzione elencata qua sotto con M che fa flip cioè gira la curva dall'altro lato diciamo e quindi per esempio la maniglia la posso portare dalla parte opposta. C'è anche la curva diciamo fatta da due punti quindi questa curva può essere manipolata a S e anche qui con la E la posso continuare e manipolarla a S. Ovviamente per tutti questi continua a valere la possibilità di avere questo thickness profile. Proviamo a vedere un attimo che succede con questo thickness profile. Quando io trascino la prima parte della curva inizia sottile finisce sottile. Se però continuo con la E e aggiungo un altro pezzo di curva vedete il profilo avviene dall'inizio alla fine del disegno completo quindi tenetene conto che quando utilizzate questi multipli all'inizio avete un'anteprima che non è effettiva nel senso che bisogna aspettare di essere arrivati alla fine per capire come sarà il profilo perché questo profilo viene assegnato all'intera riga. Quindi se io mi limito a un unico segno otterò questo profilo ma con due segni la punta sarà alla fine che è un po' quello che ci si aspetta però appunto tenetene conto che non sempre quello che vedo all'inizio è uguale al risultato finale finché non lo confermo. Poi c'è lo strumento per disegnare dei quadrati e lo strumento per disegnare dei quadrati appunto potete notare che anche lui tiene conto del thickness profile. In questo caso ovviamente a meno senso lo disabilito, abbasso un attimo anche il raggio. In questo caso facciamo un materiale nuovo prendo solid stroke e lo duplico e gli cambio colore così vediamo che i quadrati hanno un colore diverso. Quindi adesso ho disegnato questo quadrato in rosso ho le due maniglie per spostare. Qui a volte vorrei avere un quadrato perfetto allora per farlo comincio a trascinare il mio quadrato posso premere il tasto maiuscolo sulla tastiera e mentre lo tengo premuto mi obbliga a creare un quadrato perfetto. Ovviamente se poi vado a modificarlo me lo lascia cambiare a meno che prema il tasto tab così torno nella modalità di disegno iniziale e allora posso premere il maiuscolo e obbligarlo ad essere un quadrato perfetto. Un'altra opzione utile è quella di partire dal centro. Quando trascino poi premo alt ecco che la mia figura può essere costruita a partire dal centro e in alcuni casi appunto può essere più comodo e ovviamente posso anche mischiare queste due opzioni con alt e maiuscolo costruisco dei quadrati a partire dal centro. Come c'è il quadrato c'è il cerchio e il cerchio fa la stessa cosa crea dei cerchi e anche qui il maiuscolo lo obbliga a essere un cerchio perfetto e la alt l'obbliga a partire dal centro. Volendo anche mentre ho una forma ancora in questa modalità diciamo di modifica e di disegno posso anche premere G e spostarla un po' da un'altra parte la solita G del grab perché magari ho sbagliato leggermente a posizionarla all'inizio e la posso riposizionare in questo modo. Il discorso del maiuscolo dell'alt dal centro valevano anche per le linee alt dal centro funziona anche per le linee tenete conto in ogni caso di come vi ho detto di guardare bene quello che c'è scritto sotto. Questi strumenti ci permettono quindi di fare dei disegni diciamo più tecnici. Grazie e alla prossima!